Racconto fantasy, lo scontro con gli orchi. Gli hobbit, che erano degli ignomi, abitavano nelle terre di mezzo. Gandalf, che era uno stregone, convince loro e Bilbo, che è un po' il protagonista, a raggiungere le terre selvagge per trovare un tesoro. Bilbo, cominciarono a camminare, poi di sera si fermarono in una grotta per dormire e cominciarono a dormire. Ma Bilbo cominciò a segnare che prima da una parte si aprivano delle fessure nella grotta e che poi lo stesso terreno sotto i suoi piedi si apriva. A un certo punto cominciò a vedere sparire un pony e improvvisamente si svegliarono tutti. Bilbo emise un grido terribile perché vise degli orchi. Vide degli orchi che si avvicinavano sempre di più. Questi orchi poi cominciarono a costringere tutti gli hobbit ad entrare dentro una fessura. A un certo punto arrivò lo stregone che provocò delle esplosioni e degli incendi facendo morire alcuni orchi. Però purtroppo gli hobbit erano stati portati via. Passarono attraverso delle caverne molto strette, fecero un lungo viaggio e arrivarono in una grotta molto luminosa, piena di orchi. furono dapprima incatenati, furono dapprima frustati per correre sempre più velocemente all'interno diciamo di questa grotta, furono poi incatenati e lì in un muro della grotta dove furono portati trovarono i pony e le loro cose, le loro valigie. A un certo punto la grotta si riempì sempre più di orchi e arrivò il grande orco e cominciò a fare delle domande a Thorin, che era un altro hobbit e cominciò a chiedere dove fossero diretti. Thorin un po' esitando disse da parenti ma alcuni cominciarono a dire non ci crediamo allora fece una seconda domanda volete derubarci? no, non ci crediamo ugualmente dissero alla fine il grande orco disse chi ha ucciso gli orchi mi è stato detto che in una caverna c'è stata un'esplosione a questo punto quando dissero non lo sappiamo e allo stesso tempo gli orchi continuarono a ripetere che non ci credevano il grande orco riconobbe la spada di Thorin e disse che quella spada aveva ucciso in passato tantissimi orchi e allora ordina di ucciderli a quel punto compare di nuovo Gandalf lo stregone emette, fece, diciamo provocò delle esplosioni e morirono gli orchi in modo tale che poi cominciarono a correre e a fuggire dalla grotta grazie a tutti